ciao sono il dottor max in questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie in questo video analizziamo il sintomo leucocoria cause e sintomi la leucocoria è un sintomo che suggerisce un'anomalia del cristallino del vitreo del fondo oculare nei casi più evidenti si manifesta come un riflesso pupillare biancastro alla semplice osservazione dopo stimolazione luminosa per la verifica di eventuali patologie oculari invece può apparire un riflesso rosso nella pupilla dilatata la leucocoria è spesso il primo segno di retinoblastoma inoltre può manifestarsi in casi di cicatrici corneali cataratta congenita displasia retinica possibili cause di leucocoria leucocoria è un sintomo comune o probabile di queste malattie cause comuni retinoblastoma cause rare cataratta ulcera corneale grazie per avermi seguito fino a qui le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia spero di esserti stato utile metti un mi piace iscriviti al canale sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute fonte my personal trainer punto it